Buongiorno, siamo da Little Lidl La prima cosa bella che ho trovato, che io adoro queste gallette sono le migliori in assoluto ragazze perché sono... Attenta a questo video, tutte le cose che ci fanno No, quelli no No, quelli no Le gallette, perché sono praticamente solo gallette, riso e sesamo sono buonissime perché c'è il sesamo dentro ragazzi, sono ottime queste gallette è vero comunque, per chi piace di Taralini qua non c'è l'olio di palma è bravo bravo ma veramente l'hai presi dai questa marmellata qui di Lidl non va bene, c'è lo zucchero dentro e no, va bene, la possiamo andiamo sono buonissimi i pistacchi però quanta, costano 7 euro, non è troppo no, non sono meglio, non 10 sono californiani poi ci sono questi che sono mix di noci e arachidi piccanti la novità, questi sono nuovi oddio, la novità ah e vai che cos'è? scusate novità queste cose noci mirtilli belli bellissimi mirtilli che bellino vabbè siamo un poco rapiti da tutto e chi? questi bocciati perché c'è l'olio di palma no se sai che c'è l'olio di palma guarda questi questa pasta senza glutine maes e riso ottimo per chi è intollerante al glutine o chi non vuole mangiare sempre frumenti insomma maes e riso per variare che frollini senza glutine e senza olio di palma evviva ma noi stiamo a dieta soprattutto tu sì questi li prendiamo sono buoni ravioli ricotta e spinaci bio sono abbastanza dietetici 2 euro buono eh vedi la scadenza c'è anche il biopisco ragazzi abbiamo trovato questi prodotti mai visti prima che hanno buoni inci adesso li compro e poi vi farò la recensione c'è anche questo con la saponetta bellini c'è anche cose da mangiare belli la spugna la vuoi? dai ma costa poco quanto costa? 3 euro no va a vedere oh mio dio oh mio dio che combina patatina e guarda queste creme per sfizio le voglio controllare crema cacao e caffè no ma vabbè oh mio dio oh mio dio questo è la video no posalo ragazze comunque questa crema deluxe c'è sta olio di palma fa schifo comunque posiamola posalo ma dopo però per forza vorrei cadere però attira tantissimo oddio mamma lo vuoi? sei ipnotizzato non lo voglio posalo 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 queste tavagliette sono bule perchè costano poco e sono quelle grandi che ci puoi fare colazione sopra prendiamole queste un pacco si un pacco e vuoi pure tu no? ci sono sempre i trucchi qui ci sono dei nuovi colori nuovi colori questi qua di cui vi piace il video che hanno comunque buonissimi maggior parte questa per esempio la vedo che è nuova guarda questa crema money hand lotion molto molto carino questo pack queste creme money costano solo un euro molto molto carine da borsetta ragazze l'olio anticellulite famoso che vi ho mostrato nell'ultimo video sui prodotti anticellulite economici è ottimo veramente qua una summer limit edition addirittura però ci sono soltanto detergenti money però sono buoni io direi uno di prenderlo anche questo qua azzurro è molto carino adesso controlliamo l'inci piccoli famosissimi skyr buonissimi bianco molto molto buoni yogurt proteico zero grassi è buono costa anche poco e c'è anche alla frutta che è senza zucchero e anche avendo la frutta anche sendo dolcificato è dietetico quindi sono ottimi i prodotti nuovi questo c'è il dimeticone dentro e quindi lo possiamo posare ragazzi ho trovato anche questa bellissima pasta fresca integrale mista vediamo mista come la userai Dario questa questa qua questa qua per fare una ricotta no con un po' di pomodoro no ci sono anche solo le orecchie sono orecchiette e malta e strozzini come c'è che si chiamano? maltaianni e strozzini strozzapreti 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 ah poi il formaggio quack magro lo vuoi? famosissimo e c'è anche guarda io sono light mu light mu light guardate light eh ragazzi prima di andare all'altro Lidl piccola pausa break fate vedere il vostro sfruttino petto di tacchino tacchino pollo su è prosciutto è prosciutto è prosciutto sciotto vado a vedere mangiamo mamma mia siamo bellissimi buon appetito che purtafine veramente che purtafine vabbè è buono dai perchè vabbè 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 hai provato che cazzo trova? eh lo so posa lì subito posa lì no no posa lì la come? senza urla di palma no no posalo guarda che non si apriva qua eh la posa è vero noi li facciamo in casa questi buoni questi sono buoni perchè sono non fritti e anche questi non fritti e senza glutine sono buoni abbiamo trovato abbiamo trovato burro per il corpo 4,99 al milone novità adesso controlliamo l'inci molto carino il pack come sono carini questi omogenizzati biologico sono proprio buoni se avessi un bambino li comprerei guarda perchè sono carini hanno acqua di cottura carne di manzo farina di riso integrale di cottura biologica senza glutine sono molto carini vero? guarda che c'è da sopra che c'è da sopra? muuuu dove? ah la mucca muuuu bellini proprio questo pastina questo è buono bello ah però non è di riso se fosse diviso invece questa qua vedi una cosa su cui non sono proprio d'accordo sono contraria no ma che schifo perchè questa qua c'ha la paraffina guardate vedete paraffinum liquidum sui bambini è proprio dannosa quindi secondo me l'idol dovrebbe toglierla perchè ci sono tanti bei prodotti e questa no va bene proprio da abolire da abolire anche questo aboliamo no l'idol non ce lo dovevi fare invece ho comprato un bello spazzolino e poi qua va ragazze il carbone attivo per farvi la maschera al carbone vegetale con il mio video vedete costa anche 3,49 però potete fare tantissime maschere ragazze questo è tutto speriamo che questo video vi sia piaciuto mi raccomando lasciate un like non vedo nulla perchè c'è il sole negli occhi se vi piace il nostro video di prodotti al suo mercato ciao nancy ciao stai mangiando le patatine non ti vedo che stai facendo dietro no niente niente vabbè nascondi buste di patatine ciao ciao ragazzi ciao 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 ciao